è decollata la stagione balneare primo assalto alle spiagge pesaresi aggressione nel parcheggio del fano center un ferito e tre uomini in manette scuole demolite parte la fase di ricostruzione per anna frank e dante alighieri dalla mostra del cinema a marina bramovic giugno di grandi ospiti nella capitale della cultura basket inesauribile ita service loretto vince e si guadagna l'ultimo atto per il salto di categoria eccoci pronti per il nostro telegiornale buona serata e benvenuti oggi lunedì 17 giugno si apre una settimana all'insegna di temperature in rialzo dopo che ci siamo lasciati il primo vero weekend di turismo balneare dopo settimane di tempo altalenante è arrivato l'assalto alle spiagge ascoltiamo com'è andata in queste prossime interviste a cura di teovaldo bianchini finalmente il primo vero weekend estate con un sole che ha accompagnato bagnanti pesaresi e turisti sia il sabato che la domenica e che continua ad essere presente assieme ad un grande caldo estivo anche nella giornata di oggi tutti al mare insomma finalmente aggiunge magari chi con il mare ci lavora e che con il tempo altalenante dell'ultimo mese aveva forse un po storto il naso si può dire che è iniziata anche se diciamo sinceramente anche la settimana scorsa abbiamo avuto un bel afflusso di gente con questo capitale della cultura sinceramente c'è un bel movimento diciamo si vedono più turisti italiani rispetto allo scorso quelli che fanno i viaggi di una giornata i gruppi della giornata quelli che fanno un paio di giorni i turisti più o meno sono come gli altri anni a livello di temperatura è stato il primo weekend d'estate a livello lavorativo ci assomiglia un po al weekend scorso siamo ottimisti e abbiamo visto anche un bel riscontro positivo della flusso della gente che viene a visitare pesaro poi di conseguenza viene a mangiare guarda i locali insomma frequenta un po tutto quanto da noi vengono soprattutto a mangiare i pesci dagli antipasti primi la fritturina quindi siamo noi prevalentemente vendiamo quelli anche la pizza insomma va abbastanza è l'estate inizia bene diciamo che sta iniziando sì come tutti gli anni c'è nuova clientela anche con i vecchi molta clientela sia pesarese che anche quelli da fuori molto di più di tutti gli altri anni il tempo un po ci ha buttato un po giù però dai ci risolveremo presto a goderne ovviamente di questo incredibile sole d'estate sono sicuramente i lidi e chi non vedeva l'ora di un caldo simile per rilassarsi in spiaggia prima di un tuffo nonostante un mare che anche quest'anno ha portato via altri metri di spiaggia che dunque rendono difficile l'equilibrio tra i bagnanti locali e quelli che vengono da fuori abbiamo avuto un inizio giugno non eclatante un po di tempo brutto il ripascimento che si è attardato e ce l'hanno finito qualche giorno fa però come weekend è andato bene un po di gente che viene da fuori i nostri soliti locali diciamo che a parte il mare che ci porta via sempre la sabbia più ne mettiamo più ne porta via diciamo che è andata come primo fine settimana di giugno decente ognuno di noi c'è una buona parte della spiaggia riservata ai nostri noi diciamo i nostri poi gli alberghi ci abbiamo un paio di alberghi dietro un po importanti un po di gente sta arrivando famiglie e via discorrendo diciamo che un 50 e 50 adesso poi speriamo più avanti che sia un 80 di fuori e i nostri rimangono sempre quelli in effetti le previsioni davano sempre tempo incerto nuvole pioggia la gente capisce adesso guarda i telefonini se si deve muovere da fuori per fare un fine settimana che già gli dice che non è il massimo e molti rallentano perciò ha inciso ha inciso molto e anche quest'anno abbiamo dovuto fare un paio di fili in meno purtroppo sono file che vengono vengono meno gli ombrelloni liberi perché gli stagionali quelli o ben o male rimangono gli ombrelloni liberi vuol dire più avanti se va avanti così che la sabbia non ce la porta un pochettino sono posti in meno per quelli che vengono da fuori e dispiace perché vengono a pesano magari l'apprezzano e poi vengono giù in spiaggia luglio agosto e si trovano a cercarsi un posto e quello è il rammarico più grosso finalmente è iniziato è iniziato molto bene dopo un po di tempo un po inclemente con un po di vento finalmente c'è stata ieri una bella giornata e oggi ancora meglio e ho visto pure che c'è il solito tran tran tra pesaro e fano che c'è stato sosta selvaggia comunque in compenso tutto bene mare io sono affezionato a questa spiaggia vengo qua da oltre 50 anni e quindi mi trovo bene solite solita routine un aperitivo e poi a pranzo a casa ed ora passiamo alla cronaca oggi il tribunale di pesaro ha convalidato l'arresto di tre uomini che venerdì pomeriggio hanno aggredito un giovane nel parcheggio del centro commerciale del fano center perforandogli l'addome con una grossa matita da muratore il ferito è stato trasportato in l'ambulanza all'ospedale torrette di ancona dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata le indagini della polizia hanno fatto emergere come l'aggressione è nata a causa di un diverbio stradale accaduto il giorno precedente fra il ragazzo e una donna il giorno seguente il figlio il compagno della donna assieme a una terza persona hanno dato appuntamento per chiarimenti che si sono trasformati in un pestaggio la polizia intervenuta su segnalazione di altri avventori del fano center nel bagagliaio degli aggressori è stato trovato il corpo contundente in questione oltre a un coltello e una mazza da baseball risultata acquistata il giorno stesso elementi che hanno portato a tre arresti per lesioni aggravate dalla premeditazione cambiamo argomento andiamo a parlare di scuole a pesaro dove in questo mese di giugno si sono completate le demolizioni appunto della dante alighieri e dell'anna frank delle quali restano solo macerie nel corso di quest'estate partirà poi la fase di ricostruzione in piedi rimane solo una piccola porzione dell'antica struttura per il resto rimangono solo macerie della scuola dante alighieri edificio storicamente baricentrico al quartiere pesarese di soria negli ultimi giorni è stata infatti praticamente completata la demolizione dell'ex scuola media di via gattoni dalla quale rinascerà un edificio scolastico all'avanguardia sul quale c'è un investimento di 6 milioni e mezzo di euro ora il resto dell'estate vedrà operazioni di rimozione dei detriti per poi procedere alle verifiche belliche alla predisposizione di pali e fondazioni della nuova scuola sarà un nuovo edificio da 21 aule per ospitare i ragazzi di elementari e medie temporaneamente traslocati a pesaro studi in via le trieste un nuovo edificio che si svilupperà su due livelli il piano terra su via gattoni un secondo piano dall'ingresso sopraelevato di via fedeli una scuola che dovrebbe vedere la luce nella seconda metà del 2025 si tratta della seconda demolizione portata a termine in questo mese di giugno dopo quella della scuola anna frank di santa maria delle fabrecie dove già in fase di completamento la rimozione delle macerie quello sull'ana frank è un investimento pnr da 3 milioni 600 mila euro che creerà una nuova struttura in legno predisposta ai massimi livelli di efficientamento energetico con ali allungate che forniranno ambienti luminosi e distribuiti su due livelli il cronoprogramma prevede la consegna della nuova scuola nella primavera 2026 ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni come sempre l'invito è quello di mandarci al nostro numero di whatsapp foto video per segnalare le cose che non vanno arrivano critiche da parte di alcuni residenti di via curia il che reputano inadeguata la manutenzione delle fioriere che da un anno sono state poste come arredo urbano migliorativo della strada del centro storico come si vede da queste immagini alcune di queste piante si stanno rinsecchendo o mostrano lacune di manutenzione che paiono come un poco edificante biglietto da visita in una delle vie che conduce a piazzale lazzarini e al teatro rossini ed ora torniamo alla politica di pesaro occupandoci della formazione del nuovo consiglio comunale fra l'opposizione c'è anche chi è reduce della quarta rielezione consecutiva come Dario Andreolli della Lega che abbiamo avuto ospite nei nostri studi. Diciamo che le elezioni hanno dato un esito negativo da un punto di vista complessivo per la nostra coalizione da un punto di vista di lista sostanzialmente si è confermata rispetto al voto delle elezioni europee è un peccato che non siamo riusciti ad eleggere un secondo consigliere per poche percentuali legate al premio di maggioranza da parte del centro sinistra e da un punto di vista personale invece sono contento del risultato che conferma diciamo una stima di da parte di tanti cittadini nei miei confronti che hanno espresso la loro preferenza questo mi fa davvero molto piacere e mi dà uno stimolo a continuare a lavorare per il consiglio comunale allo stesso modo e anche con maggiore intensità rispetto al passato anche perché nel suo caso si parla del quarto consiglio comunale quindi vent'anni di politica amministrativa pesaro sì il mio percorso inizia nel lontano 2004 quando sono stato eletto per la prima volta in consiglio di quartiere nella circoscrizione allora si chiamavano così e dal 2009 sono in consiglio comunale un'esperienza davvero significativa molto bella questo è il terzo sindaco che al quale mi ritroverò a fare opposizione e la faremo ancora in maniera più intensa rispetto al passato convinti anche che questa volta ci siano degli elementi molto significativi sui quali fare una forte opposizione ci fa un esempio ma noi riteniamo che questa coalizione sia stata costruita non su una base programmatica ma su una spartizione fatta a priori da parte dei ruoli di potere da una coalizione che sia impersonificata in assessori che togliendo il terzo mandato il limite del terzo mandato oggi continueranno fare gli assessori creando dei veri propri centri di potere davanti ai quali noi opporremo non solo un'opposizione da un punto di vista formale ma proprio anche un'impostazione di metodo perché riteniamo che sia un qualcosa di sbagliato ai fini della democrazia ai fini dell'interesse cittadino io voglio ringraziare marco lanzi per il grande lavoro che ha fatto per l'entusiasmo che ci ha messo e per il fatto che è riuscito a catalizzare più del 35 per cento dei voti dei cittadini pesaresi che non è mai un fatto banale la sconfitta è frutto anche probabilmente del ritardo con il quale abbiamo designato marco come nostro candidato a sindaco che ha avuto poco tempo per far conoscere le sue qualità umane e il suo progetto politico allo stesso tempo dall'altra parte abbiamo avuto una unità diciamo di una coalizione dove hanno messo tutto il contrario di tutto assessori che litigavano fra loro assessori che hanno una visione diversa da parte di alcuni problemi della città di conseguenza era anche molto difficile scontrarsi e ora tutte queste difficoltà sono in capo al nuovo sindaco andrà biancani che si troverà una grande difficoltà a mettere insieme visioni diverse della città e unita solamente per una divisione di potere ed ora passiamo a urbino dove si entra nella fase esecutiva della realizzazione della nuova palazzina delle emergenze urgenze che migliorerà le prestazioni sanitarie dell'ospedale urbinate con un investimento complessivo di 22 milioni di euro la regione marche è entrata infatti in possesso dell'area edificabile di 11 mila metri quadrati per realizzare una nuova struttura dotata di pronto soccorso medicina d'urgenza terapia intensiva e subintensiva e blocco operatorio continuiamo a restare a urbino in questo caso però parliamo di arte perché domani si aprirà a palazzo ducale la mostra più attesa di questo 2024 ultimi preparativi a palazzo ducale di urbino dove domani martedì 18 giugno a mezzogiorno la galleria nazionale delle marche aprirà le porte all'evento più atteso del suo 2024 la mostra federico barocci urbino l'emozione della pittura moderna barocci nacque proprio ad urbino nel 1535 e nella sua città trascorse la maggior parte dell'esistenza e l'annessa produzione artistica che lo resero il più richiesto autore di dipinti sacri della seconda metà del 500 mai la galleria nazionale delle marche gli aveva dedicato una mostra monografica che ora viene resa possibile grazie ai tanti prestiti provenienti dai principali musei nazionali e internazionali che arricchiscono la collezione già importante del palazzo urbinate la mostra è curata dallo stesso direttore della galleria luigi gallo assieme ad anna maria ambrosini massari giovanni russo e luca baroni dopo 400 anni le pare d'altare di federico barocci da roma e da perugia stanno tornando a urbino abbiamo appena fatto la movimentazione della straordinaria deposizione di cristo dalla cappella del duomo di perugia l'opera è nel camion e comincia il suo viaggio per tornare urbino dove è stata realizzata molto tempo fa sarà visibile fino al 6 ottobre è una grande emozione questa mostra per raccontare la storia l'opera del grande pittore di urbino federico barocci si chiude invece domani a pesaro the life l'opera immersiva dell'artista marina abramovic visitabile per l'ultimo giorno al centro artivisive pescheria un finissage che sarà arricchito dalla presenza pesaro della stessa marina abramovic che assieme al regista di the life todd eckert sarà al teatro rossini alle 21 e 30 con una conversazione sulla genesi di questa esperienza artistica appuntamento che è già sold out da giorni e la presenza a pesaro di un artista di richiamo planetario come marina abramovic si inserisce in una passerella non stop di grandi nomi del cinema nazionale che continuano ad alternarsi sul palcoscenico del pesaro film festival dopo l'apertura della mostra del cinema alla presenza di sergio castellitto in occasione del ventennale del film non ti muovere ieri è stato il turno del duo comico ficare piccone che in piazza del popolo hanno raccontato la loro parabola professionale questa sera le 21 e 30 sarà l'attrice jasmine trinca a presentare in anteprima nazionale il suo film maria montessori la nouvelle femme di lea todorov ospite d'onore della serata di domani sarà invece l'attrice valentina lodovini che presenterà il film la giusta distanza di carlo mazzacurati nel decennale della sua scomparsa e legata alla mostra del cinema è pronta a partire anche la korean week si tratta di un ricco e progetto di scambio culturale fra pesaro e il paese dell'estremo oriente nell'anno di pesaro 2024 capitale italiana della cultura si coglie l'occasione per consolidare le relazioni internazionali con il mondo e in questo scenario nei giorni della storica mostra internazionale della nuovo cinema rientra la korean week per una scoperta della cultura coreana dalla 20 al 23 giugno una delle novità di questo 2024 di capitale italiana cultura ma che vorremmo potesse diventare una bella abitudine della città di pesaro abituata alle relazioni internazionali la corea è uno dei paesi culturalmente più interessanti in questo momento più in evoluzione a partire dal digitale ma anche della creatività musicale da dalla bellezza della dell'attenzione anche ai processi artigianali dalla ceramica alla carta e siamo convinti che continuare a investire su questo tipo di rapporto sia per noi molto importante è un rapporto che parte dalle città unesco coreane collegate a pesaro a partire da di gu città internazionali della musica come pesaro ma che arriva a tanti altri ambiti dal cinema al design alla letteratura tutti i ambiti le cui città unesco della corea agiranno per partecipare a pesaro portando i propri artisti il legame di pesaro con la corea nasce fondamentalmente dal 2005 quando un'edizione storica della mostra del cinema apriva una finestra decisiva sulla conoscenza del cinema coreano ora il cinema coreano è molto anche nel digitale nelle serie insomma nei key drama che tanti di noi conoscono a livello anche social c'è una passione vera per il tema della della corea che poi passa per altri elementi dal key food attraverso il tema della gastronomia della cucina un ristorante opera diventerà per una settimana ristorante coreano il key beauty quindi avremo dimostrazioni e corsi rispetto alla cosmesi coreana e ad esempio anche tutto il tema legato alla scrittura alla calligrafia alla carta insomma ci sarà un vero e proprio scambio di conoscenze tra l'artisanalità pesarese marchigiana e quella coreana che si porta dietro tra l'altro anche un grosso potenziale di scambio turistico un'occasione quella della corean week per portare a pesaro un clima di internazionalità non soltanto all'insegna della cultura ma anche della promozione e del turismo gli scambi delle relazioni tre paesi sono molto importanti la corea peraltro è un paese in forte evoluzione anche dal punto di vista economico c'è un grande interesse per l'arte e la cultura italiana per cui questa settimana dal 20 al 23 di giugno con anche delle anteprime e delle code finali ma diciamo che il clou del del programma è dal 20 al 23 mette insieme una serie di iniziative concerti musicali e rappresentazioni vocali laboratori di grafologia la possibilità di vestirsi con i vestiti tradizionali coreani insomma tante iniziative per accrescere queste relazioni e per stimolare la curiosità anche da parte dei pesaresi dei cittadini della nostra provincia su questo grande grande paese concludiamo parlando di sport degli europei di calcio in corso informiamo infatti che a pesaro sarà allestito un maxi schermo in piazzale d'annunzio per far convergere il tifo azzurro per l'italia in occasione della sfida di giovedì alle 21 con la spagna l'evento sarà accompagnato dal food track dell'azienda marchigiana fileni e dai volontari del banco alimentare che si occuperanno del recupero delle eccedenze alimentari e nello stesso giovedì sera dell'italia di calcio scenderà in campo a ragusa anche l'ital service loreto basket per l'ultima partita della stagione che mette in palio la promozione in serie b nazionale un ultimo atto guadagnato grazie alla vittoria di ieri al pala megabox che vi mostriamo in questo ultimo servizio giovedì 20 giugno a ragusa l'ital service loreto basket pesaro si giocherà in gara secca l'approdo alla serie b nazionale i gialloblu di coach foglietti arrivano alla bella in terra siciliana dopo che ieri sera hanno pareggiato la serie vincendo gara 2 al pala megabox con un convincente 89 79 loreto con la testa giusta fin dalle prime battute di un primo tempo che si chiude in vantaggio sul 54 43 ragusa reagisce nella seconda frazione ma i pesaresi restano sul pezzo e vincono la contesa con margine comodo e con il giusto grado di convinzione autostima per affrontare al meglio l'ultimo decisivo atto della stagione molto importante ci tenevamo volevamo vincere ci siamo riusciti a una buona prova in attacco un po meno in difesa però merito un po anche della squadra ospite oggi abbiamo giocato come gioca l'oretto pesaro e abbiamo dimostrato che possiamo fare una squadra più più forte da altre tre partite che abbiamo giocato contro virtù anche con chi con lui con loro e abbiamo fatto una buona difesa e che credo che che questo non hanno fatto vincere la partita siamo molto contenti molto soddisfatti per la risposta del pubblico per la risposta della squadra perché sai venivamo da una prestazione un po sottotorno a ragusa quindi la squadra regito molto bene con molto carattere e adesso andiamo a giocare la terza la bella ragusa ci aspetterà un ambiente infuocato però l'obbligo nostro è di provarci assolutamente perché comunque l'intenzione era quella di provare di fare il salto di qualità e proviamo proviamo a vedere sicuramente dovremmo limitare qualche loro giocatore questo sicuramente dovremmo subire meno rimbalzi in attacco e cercare di pareggiare la loro fisicità perché si tratta di una squadra fisica e atletica contro il quale bisogna giocare duro giocare forte adesso abbiamo una finale una finale si può può succedere di tutto quindi andiamo la andremo la sicuramente pronti e ormai siamo lì vogliamo vogliamo vincere la giunta e allora come vedete una settimana davvero importante per quel che riguarda la cultura ma anche lo sport non solo locale ma anche nazionale noi siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale però restate con noi perché tra pochissimo subito dopo questa edizione vi mostreremo un altro approfondimento dedicato alla natura della cultura il nostro magazine ufficiale in collaborazione con pesaro 2024 mentre in prima serata una nuova una nuova puntata dice capo obiettivo salute questa sera parleremo di artrosi attività fisica e lo faremo con il dottor stefano lavanna e domani un nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa con voi ci sarà marco cadeddu il telegiornale invece vi aspetta domani alle 19 30 alle 20 e 30 invece di questa sera potrete vedere la replica di questa edizione grazie mille buona serata